La legge di bilancio che va approvata nei Consigli Comunali è sicuramente il dispositivo legislativo comunale più importante perché dà l'idea del lavoro che bisognerà fare, con quali fondi a disposizione. Giovedì sbarca in Consiglio Comunale di Taranto il bilancio. Di qui a giovedì tre giorni di lavoro per la Commissione Bilancio e ne parliamo proprio con Dante Capriulo. Nel mio ruolo di Presidente della Commissione Bilancio stiamo istruendo tutta questa attività che è l'attività più complessa per un ente municipale, si chiama bilancio anche di programmazione in quanto programma tutte le attività dell'ente. È il primo bilancio dell'amministrazione guidata dal sindaco Melucci, quindi è il primo banco di prova perché operiamo le scelte per il futuro della città, perché fino ad oggi si è lavorato sulle scelte della passata amministrazione, quindi diventa un atto fondamentale anche di indirizzo. Le novità ci sono sia in ordine alle scelte che si stanno operando, a partire dal fatto che è stato depositato negli ultimi giorni il piano di estinzione dei debiti di Sesto con un primo parere favorevole da parte della Commissione Centrale, quindi si prefigura finalmente l'uscita definitiva dal di Sesto che significa liberarsi da questa cappa oscura che ha comunque condizionato molto la città. Ci abbiamo tenuto come Consiglio Comunale, e questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto, quello di non aumentare la tassazione locale, quindi non aumenterà nessuna tassa e soprattutto abbiamo operato anche qualche riduzione mirata, penso alla riduzione totale perché ha un reddito meno di 2.000 euro sull'Atari o a quelli che hanno sull'Imo, sul canone concordato. L'altro obiettivo è che stiamo introducendo elementi di partecipazione, abbiamo fatto una fase di ascolto e stanzieremo risolse anche per il cosiddetto bilancio partecipato, che sarà una novità assoluta per il Comune di Taranto, un'attenzione particolare anche con una serie di emendamenti sulle periferie. Poi ovviamente c'è anche il discorso che riguarda tutte le opere pubbliche più complessive. Un bilancio, dice Capriulo, che naturalmente comprende quella che è la quotidianità dalla manutenzione del verde pubblico a delle assunzioni possibili per dare fiato all'amministrazione di una macchina complessa come quella comunale. E infine penso al completamento del teatro, penso a tutto il sostegno che si deve dare al CIS. Ripeto, dal bilancio passa tutto e credo che questo per la città di Taranto, per questa amministrazione che si cimenta per la prima volta sul bilancio di previsione, sarà comunque un bilancio di svolta. Grazie. 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 Grazie.